Buongiorno a tutti quanti voi, buon venerdì, venerdì 29 marzo 2024. Oggi è venerdì santo, quindi ci avviciniamo alla Pasqua, un giorno decisamente particolare, assolutamente particolare e molto spirituale sotto un certo punto di vista. Per chi crede ovviamente saranno tante anche le celebrazioni. Il triduo pasquale è iniziato praticamente ieri con le prime celebrazioni religiose. Questa sera in Calabria sappiamo bene che il venerdì santo è una giornata particolare anche perché si fondono religiosità e tradizione con le consueti, i riti del venerdì santo. Poi domani magari ne parleremo vedendo magari qualche immagine e sappiamo bene che ci sono dei riti molto particolari. Penso a quello di Verbicaro, penso a quelli di Nocera Terinese o magari anche Cassano Ionio, con tante davvero celebrazioni, processioni che magari alcune volte vanno anche al di là di quella che è la vera e propria spiritualità, ma che sono comunque tradizioni importanti che vengono tramandate da secoli, possiamo dire. Bene, comunque al di là di questo, insomma, noi saremo in onda oggi, domani, senza problemi. Bene, di cosa parliamo oggi? Prima di iniziare, come sempre, saluto e ringrazio Enzo Leonetti in regia e oggi si parla di politica. Diciamo che le aperture, per esempio, di Gazzetta del Sud sono diverse e a seconda, molto territoriali oggi, seguono i contesti territoriali. Per esempio Cosenza punta sulla politica, sul comune e sul rimpasto di giunta che salta. Cosenza ci sono anche problemi, per certi versi, nel Partito Democratico. Catanzari, invece, punta sulla mobilità e su una mobilità green. Invece, per quanto concerne Reggio Calabria, è una polemica della quale poi parleremo, ovviamente, come sempre. E ci sono anche tante altre notizie, non ci sono solamente queste derivanti dei contesti territoriali. Parleremo, ovviamente, di politica a livello nazionale. sta facendo tanto rumore, per certi versi, il super bonus, le problematiche derivanti al super bonus. Ma non solo, diciamo, alla vigilia di questa Pasqua sono anche diversi, possiamo dire, i temi della politica. Tra politica e cronaca c'è il caso di Ilaria Salis in Ungheria, lo sappiamo bene. Resta in cella, negati gli arresti domiciliari. Poi ci sono le elezioni con tante... Ovviamente si parla già dell'europea, ma si parla anche delle amministrative, delle comunali. E se ne parla tanto anche in Calabria. Non mancano notizie riferite, ovviamente, agli scenari di guerra. E poi lo sport, perché oggi siamo solitamente venerdì e giornata di vigilia per la Serie B. Questa volta, invece, non siamo neanche all'antivigilia. Siamo a tre giorni dal match, perché si gioca nel giorno di Pasquetta, in maniera discutibile alle ore 15, probabilmente. Insomma, da padrono le fanno gli esclusivisti nazionali, intendo ovviamente le emittenti televisive, che forse impongono questi orari, perché poi bisogna dare spazio ad altre partite e magari alcune televisioni preferiscono che sia così. Altrimenti non si riesce a capire perché le ore 15 del giorno di Pasquetta e no magari le ore 20, le ore 19, le ore 20 e 30, che favorirebbero sicuramente, come dire, la flusso allo stadio da parte dei tifosi che magari vogliono comunque trascorrere la Pasquetta in famiglia. Bene, questo è un po' di notizie che troviamo sui giornali. Allora andiamo subito sui giornali. Andiamo sulla Gazzetta del Sud, l'edizione di Cosenza. Abbiamo detto, apertura dedicata ai contesti territoriali, dedicata in questo caso al rimpasto di giunta, che salta, lo racconta Gazzetta del Sud, ovviamente in conseguenza di quelle che sono un po' anche le notizie che abbiamo trattato nella giornata di ieri relative alle difficoltà e alle vietribe che sono scoppiate all'interno del Partito Democratico. Sappiamo i tre dissidenti che sono stati chiamati ieri e che sono stati attendo, diciamo, l'espulsione della PD. Vedremo se ci sarà quella espulsione perché hanno creato un altro gruppo. Ma andiamo a parlare di quella che è il rimpasto saltato. In frizioni fra i tre consiglieri dissidenti e la segreteria provinciale DEM le polemiche espose appunto inducono il primo cittadino a rinviare ogni scelta, perché poi ovviamente le scelte teoricamente devono essere concordate anche con i partiti. Battuta l'arresto sul rimpasto di giunta a complicare i piani del sindaco sono intervenute le diatribe appunto alle quali abbiamo fatto riferimento. L'uscita dal gruppo consigliare dei Democrat da parte dei tre consiglieri e di Ari hanno innescato un rogo difficile da spegnerne l'immediato complicando i propositi del primo cittadino Franz Caruso di rivisitare la squadra di governo quando sembrava ormai prossimo il rimescolamento delle carte improntato essenzialmente su due direttrici riempire le caselle rimaste vacanti dopo la dimissione dell'allora vice sindaco Maria Pia Funaro esponente di spicco del Partito Democratico entrata in contrasto con lo stesso inquilino del municipio. e poi anche l'assessore al bilancio Francesco Giordano è di rivisitare le deleghe nell'ambito dell'esecutivo tutto rimandato a data da destinarsi e secondo Gazzetta i malumori crescono. Bene, questo per quanto concerne la politica cosentina e allora visto che ci siamo andiamo a vedere anche le altre notizie cosentine anche perché poi sulle altre prime pagine si cambia radicalmente apertura il comune prende tempo sulla donazione Bilotti il mecenate vuole regalare anfore che nessuno accetta il mecenate Roberto Bilotti vuole regalare una collezione di migliaia di reperti archeologici raccolte alla sua famiglia e alla città ma non sembra trovare sponde nelle istituzioni incredibile, la consigliere delegata della cultura Antonietta Cozza spiega perché in comune non è mai arrivato un documento ufficiale da parte di Bilotti lo invii e valuteremo cosa fare andiamo a parlare invece adesso di politica andiamo sui temi nazionali poi torneremo ovviamente anche sulle altre vicende super bonus sisma e in ogni classe più alunni italiani critiche al governo dietro fronte proposta e allora la politica come dire la fa da padrone sempre anche in questi giorni precedenti alla Pasqua dietro fronte del governo nel decreto super bonus resteranno la cessione di credito e lo sconto in fattura per i comuni del cratere del sisma 2009 e 2016 dopo 48 ore di critiche la volta e la rivolta di sindaci e governatori anche di centrodestra l'esecutivo salva la misura per le aree terremotate il governo la sua azione di tutela e sostegno delle comunità colpite assicura che non sarà previsto alcun blocco per i crediti super bonus sisma allarme rientrato dunque con i comuni coinvolti di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche che prima della correzione di rotta avevano parlato di colpo mortale alla ricostruzione e alla ripartenza dal bonus per l'elizia alla scuola giornata di polemiche il ministro Valditara si è schierato con Matteo Salvini sulla proposta di limitare la quota di ragazzi stranieri in aula l'integrazione avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà italiana per Valditara il valore della Costituzione assimilando la quale si costruisce una società ordinata altrimenti i melting pot possono essere appresi più facilmente se i ragazzi stranieri studieranno in modo potenziato l'italiano se non lo conoscono bene se gli alleati di governo appoggiano le affermazioni del ministro forti critiche arrivano dal Partito Democratico quelli di Valditara sono sproloqui si comporta ormai da megafono di Salvini non alla classichetto l'ipotesi viene bocciata anche dalla FLC CGL si tratta di un'idea fuori dal tempo e questo per quanto concerne la pagina politica italiana schiaffo a Salvini sciopero dei trasporti del 15 dicembre bocciate dal TAR le precettazioni ma poi tra politica e cronaca come abbiamo detto il caso di Ilaria Salis qui però andiamo anche in Ungheria di nuovo in catene resta in cella negati alla Salis domiciliare a Budapest minacce di gruppi di estrema destra prima dell'udienza il papà è l'attivista ennesima prova di forza di Orban l'Italia non ha fatto una bella figura le circostanze non sono cambiate i 13 mesi di carcere non sono poi tante si infrangono contro queste frasi pronunciate dal giudice Sos le speranze di Ilaria Salis di uscire dal carcere dove è reclusa dal febbraio del 2023 per attendere l'esito del suo processo ai domiciliari a Budapest arriva senza esitazione la decisione della giustizia ungherese che non fa nessun sconto all'attivista italiana è accusata di due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione criminale troppo pesanti secondo il tribunale per concedere i domiciliari anche col braccialetto elettronico e cambiare il suo status di detenuta pericolosa che viene quindi trasferita di nuovo con manette e catene alla caviglia oltre a essere tenuta da un agente con un'altra catena come un guinzaglio trattata ancora come un cane Orban ha dato un'altra prova di forza essere in fischia delle posizioni garantiste europee questa è la parola giustamente del padre Roberto Salis l'altro indagato niente estradizione in Ungheria Marchesi è libero è sempre sull'asse Italia-Ungheria questi casi purtroppo ne parliamo fra poco di un'altra vicenda prima andiamo sugli scenari di guerra parliamo di Putin pronti a colpire gli F-16 anche in aeroporti Nato Lozar avverte alleanze in caso di utilizzo dei getti i russi insistono soldi da Kiev ai terroristi poi smorsitoni l'attacca ad altri paesi sarebbe un'assurdità speriamo insomma ce ne si renda conto Laia è uno sferzo in Israele Netanyahu a maggio l'ingresso a Rafa altro scenario di guerra è quello che ovviamente riguarda il Medio Oriente Netanyahu annuncia l'invio di una delegazione degli Stati Uniti l'ONU attacca la fame a Gaza possibile crimine di guerra la Corte dell'Aia Israele assicuri aiuti umanitari urgenti e poi abbiamo detto insomma ecco che molto spesso la politica si fonde come nel caso di Ilaria Salis con la cronaca alcune volte anche lo sport si va a fondere purtroppo con la cronaca è il caso delle scommesse il caso di Tonali rischia altre sanzioni in Inghilterra sarebbero state scoperte 50 scommesse anche in Inghilterra Tonali ancora nei guai 50 scommesse effettuate al suo rival Newcastle in agosto fino al blitz di Coverciana a ottobre mettono di nuovo nei guai Sandro Tonai l'ex milanista squalificato dalla FIGC per dieci mesi rischia altre sanzioni adesso bisognerà vedere se la giustizia sportiva inglese darà terra per buona possiamo dire ecco in questo caso è quella che è la condanna combinata dalla FIGC dalla procura federale ovviamente italiana e la reterrà congrua per questi dieci mesi di squalifica in tal caso Tonali potrà rientrare appunto sicuramente alla prossima stagione comunque dopo i dieci mesi di squalifica scontati diversamente potrebbero esserci altre sanzioni quindi si potrebbe andare incontro ad altre decisioni e sommare i dieci mesi eventualmente alle altre o comunque magari trovare un'intersezione fra le due condanne e comunque prolungare i tempi per il rientro di Tonali una bella partita una bella notizia però che riguarda il calcio calabrese la troviamo sulla prima pagina di Gazzetta del Sud poi parleremo anche di calcio e qui troviamo però ovviamente in prima pagina il richiamo al torneo delle regioni Calabria under 19 stiamo parlando dei ragazzi sotto i 19 anni Calabria in finale dopo 46 anni sfiderà il Piemonte l'impresa della selezione calabrese al torneo delle regioni 46 anni fa l'ultima volta della Calabria in finale ci siamo per ancora continuiamo a passare in rassegna quelle che sono le altre notizie provenienti dalla provincia di Cosenza rende decisione del Tribunale della Libertà l'ex sindaco Manna rimane appunto in libertà non ci sono i domiciliari per lui abbiamo detto insomma di elezione amministrativa andiamo a Corigliano Rossano uno dei quattro comuni sopra i 15 mila abitanti nei quali si voterà quello più popoloso in Calabria l'8 e il 9 giugno per il rinnovo dei consigli comunali elezioni amministrative di giugno parla Rossellina Madeo il Partito Democratico si compatta in sostegno dell'uscente Flavio Stasi e sembrano ormai i due schieramenti compatti Flavio Stasi da una parte con il cosiddetto campo largo PD Movimento 5 Stelle queste le impressioni dall'altra parte il centro-destra con Pasquale Nastrafaci si attende di capire insomma cosa farà azione magari alcune forze di centro ma di fatto gli schieramenti sono questi vedremo se ci saranno solamente due candidati in tal caso praticamente non ci sarà un ballottaggio perché comunque chi al primo turno riuscirà ad arrivare al 50% più uno dei voti otterrà la poltrona di primo cittadino in questo caso non è possibile proprio scientificamente un ballottaggio ultime due notizie poi ne aggiungeremo una terza che arrivano dalla provincia di Cosenza giovane carabiniere trovato senza vita 27 anni fa in caserma l'appello dei congiunti a distanza di 27 anni siamo a Cassano Ionio e la famiglia torna a chiedere verità e giustizia sul caso di Giuseppe Passarelli carabiniere di Policoro trovato senza vita all'interno della caserma poi andiamo a Paola bilancio preventivo approvato con i voti della maggioranza quindi approvato il bilancio di provisione comunale dopo un infuocato dibattito in consiglio bene abbiamo detto che queste erano le ultime notizie le ultime due provenienti dalla provincia di Cosenza e che ne avremmo aggiunto una terza andiamo ad aggiungere e ci spostiamo di pochi chilometri di una ventina di chilometri a sud di Paola andiamo ad Amantea perché andiamo ad Amantea perché ieri sera nella serata nella serata di ieri è un atto intimidatorio o vandalico questo lo stabiliranno le forze dell'ordine nei confronti del comune di Amantea e quello che vedete qui alla mia spalla è il sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino ecco cosa è accaduto ieri sera lo racconterà il sindaco in breve alcuni ignoti ovviamente hanno danneggiato alcuni vetri del comune qualche giorno fa l'abbiamo raccontato ad Amantea c'è stato un atto intimidatorio nei confronti di un'impresa altra questione però insomma c'è un po' il timore che possa trattarsi di un escalation ipotesi che vuole scongiurare il sindaco che racconta quanto è accaduto e poi insomma chiede interventi alle forze dell'ordine alle quali si è rivolto per sporgere le denunce non appena accorto dell'accaduto si è accorto ieri sera siamo sul tardi poi questa mattina ovviamente è andata a sporgere denuncia alla caserma dei carabinieri di Amantea e il sindaco parla proprio della caserma della possibilità di trasformare la caserma dei carabinieri in tenenza insomma ci sono un po' di questioni che già da tempo battaglie che già da tempo il sindaco Vincenzo Pellegrino porta avanti il sindaco Pellegrino che andiamo a sentire ieri sera nella tarda serata nelle prime ore della notte diciamo verosimilmente tra le 18.30 orari in cui sono stati chiusi gli uffici comunali e le 23 ora nella quale è arrivata la segnalazione ignoti hanno preso di mira gli uffici dello Stato Civile provocando dei danni alle vetrate un atto banalmente di vandalismo un banale atto di vandalismo può darsi ma io quello che vorrei venisse scongiurato è che questo possa essere l'inizio di un'escalation in città sia di atti delinquenziali ma soprattutto di atti intimidatori verso questa amministrazione che invece intende perseguire un unico obiettivo che è quello della difesa della legalità e del diritto forse il caso anche di riproporre la questione della trasformazione della stazione dei carabinieri in tenenza dei carabinieri per aumentare il numero dei militari presenti sul territorio ma questa come ho già detto è una questione vecchia è un'antica è un mio pallino che dato a fin dal mio insediamento spero che come dire gli organi preposti ne vogliano tenere conto e magari in questo momento rivisitare la problematica so che ci sono delle difficoltà a trasformare la locale stazione in caserma dei carabinieri le difficoltà legate principalmente alla come dire all'arruolamento del personale però tutto sommato forse a ripensare questa vicenda e a forse a me tocca riproporla gli ordini preposti invece dovrebbero riconsiderare questa questa richiesta bene questo è il sindaco Diamantea Vincenzo Pellegrino sull'atto intimidatorio posto in essere ieri sera nella serata appunto di ieri nei confronti della sede comunale poi nel corso del nostro telegiornale ne parleremo e vedremo anche le immagini ovviamente dei danneggiamenti di questo atto intimidatorio sperando si possa far presto luce lo stesso sindaco poi ha anche sottolineato che ci sono alcune telecamere di videosorveglianza del comune quindi magari queste immagini che questa mattina ancora non erano state visionate ma erano disponibili non erano state ancora visionate dai carabinieri ovviamente la denuncia è stata appena fatta e potranno essere magari utili per risalire ai responsabili e capire se si è trattato di un atto intimidatorio o se di un atto vandalico è comunque è comunque una cosa insomma atti da condannare andiamo avanti con visto che Amantea poco più a sud siamo già nella provincia di Catanzaro e allora andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud edizione di Catanzaro Crotone Vivo Valencia e Lamezia e cambia l'apertura cambia le notizie provinciali Catanzaro verso la mobilità green in programma l'acquisto di bus ecologici interventi su funicolare e parcheggi presso in consiglio comunale il piano di sviluppo AMC la società partecipata che gestisce il trasporto urbano periodo chiave quello che attende l'AMC nel prossimo futuro alle prese con le esigenze di consolidamento e di quella di sviluppo che dovranno accorpare e accompagnare chiedo scusa la società partecipata che si occupa di trasporto urbano verso la nuova mobilità cittadina i dettagli tra conti di bilancio e business plan sono contenuti nel budget 2426 che approderà in consiglio comunale attualmente il documento sottoscritto dal direttore generale Luca Brancaccio e dall'amministratore Eugenio Felice Perrone e al vaglio della commissione bilancio si parla del rinnovo della flotta con 55 autobus che è parte del piano di potenziamento che dovrà portare a un incremento dei servizi e quindi dei ricavi propri bene questo per quanto concerne la mobilità green centro antiviolenza nella villa confiscata qui siamo a Montepone quindi sempre nell'area in questione la zona centrale della Calabria la provincia di Catanzaro l'agenzia nazionale ha assegnato l'immobile ed è bene assegnare gli immobili confiscati per dargli nuova vita e in questo caso è anche un qualcosa di altamente simbolico nascerà quindi a Montepone questo centro antiviolenza all'interno della villa confiscata in via Busento sarà il primo della regione l'iter per la realizzazione della struttura è stato ufficialmente avviato con l'assegnazione del bene alla regione da parte dell'agenzia nazionale bene questo per quanto concerne ovviamente anche le notizie del Catanzarese andiamo a Vibo Valencia sempre nella centrale della Calabria perché abbiamo già parlato della Calabria in finale nel torneo delle regioni di calcio under 19 Vibo Valencia rimpiazzo in appello 20 condanne 13 assoluzione il clano di Piscopio alla sbarra l'inchiesta appunto con il processo che sta celebrando a Vibo Valencia a proposito di inchieste Dirti Soccer assolti Pietro Iannazzo e gli altri imputati rimasti coinvolti nell'inchiesta della direzione distretto antimafia di Catanzaro un procedimento che risale al 2015 altre notizie ancora di cronaca scappa di casa e prende un treno siamo a Catanzaro Minorenne ritrovata a Palermo un quattrodicenne di Catanzaro è scappato ieri mattina all'alba e ha raggiunto Palermo con un treno qui è stato rintracciato nel mercato di Ballarò andiamo invece a Rocca Bernarda in provincia di Crotone il clan bagnato mirava al comune sette richieste di rinvio a giudizio la DDA di Catanzaro ha chiesto il giudizio dei presunti vertici dei fiancheggiatori della Cosca e qui siamo in provincia di Crotone per esaurire qui la lettura delle altre notizie che riguardano l'area centrale della Calabria ci spostiamo a questo punto nel Reggino terza prima pagina terza apertura una polemica spettacolare a Reggio Catona Teatro e Palazzo San Giorgio ai ferri corti per un bando che penalizza le periferie chi l'ha stravolte le linee ministeriali piazza del popolo e a due isolati dal corso andiamo nello specifico a capire di cosa stiamo parlando il Ministero della Cultura ha destinato alla città di Reggio Calabria 472.572 euro 86 centesimi proprio per essere precisi con lo scopo di sostenere ed ecco perché la polemica spettacolare attività di spettacolo e valorizzare valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree periferiche dei comuni di capoluogo delle aree metropolitane ma l'amministrazione Falcomatà ha fatto diversamente ha detto Lillo Chilà patron di Catona Teatro e ha ripartito la somma in due sezioni 80.000 euro destinati a piccole rassegne da allestire solo nel mese di giugno nei territori di Callico Catona Pellaro e zona sud della città mentre 392.000 euro e rotti sono stati destinati a grande rassegne di spettacolo all'avvivo da allestire in Piazza del Popolo nel periodo 21 luglio 11 agosto in pratica l'83% dei fondi ministeriali all'offerta artistico-culturale sarà tutta concentrata in un unico luogo periferico che si trova ad appena isolati dal centro storico questa la polemica portata avanti da Lillo Chilapatron di Catona Teatro e abbiamo detto venerdì santo settimana santa ieri giovedì santo ovviamente riti e allora la via crucis del detenuto e del suo giudice insieme il presidente del tribunale di Locri Fulvio a curso e il giovane detenuto che proprio a curso ha condannato è l'immagine che meglio riassume il senso della via crucis della riparazione natisciana lunedì a Roccella molto bella questa questa storia che arriva da Roccella Ioni che i ragazzi che avevano il carcere si sentono spesso persone inutili gli ultimi nella società ma sono capaci di cose straordinarie ha detto il magistrato un potente simbolo di riparazione e riscatto sociale ci teniamo ci teniamo davvero a sottolineare a raccontare questa storia ne raccontiamo ancora altre di notizie più che di storie abbiamo già parlato il terreno delle regioni decreto regio il comune salva 27 milioni di euro un vecchio contenzioso la sentenza è stata pronunciata nel tribunale regino nella giornata di ieri paghi per evitare l'arresto di suo figlio e la madre consegna 4.100 euro e gioielli denunciate due giovani donne campane la truffa stroncata dalla polizia ma fate attenzione non aprite le porte non verranno mai a casa i carabinieri a dirvi cose di questo tipo non esiste una cosa del genere fate molta attenzione non aprite la porta agli sconosciuti Locride sanità e ritardo lista d'attesa ad alte percentuali di sforamento le tabelle riportate nel piano distanziamento e l'ASP emerge che all'ospedale di Locride ci vogliono ad esempio 75 giorni in più del dovuto per un'ecografia al fegato poi in serie D infine il calcio turno infrasettimanale turno probabilmente pasquale in anticipo in serie D la regina risorge batte l'Akragas con una manita 5 gol della regina i gol di Renelus doppietta di Barilla Girasole e Marras per la cinquina con la quale la regina batte in serie D l'Akragas poi più tardi parleremo di sport ci stiamo avvicinando alle 13.50 quasi 13.59 allora noi ci fermiamo per la consueta pausa abbiamo dato spazio alla gazzetta poi dobbiamo vedere le notizie in tempo reale ovviamente le notizie della mattinata i siti web ma prima le riapriremo dal quotidiano del sud vedremo anche la riapertura l'apertura del quotidiano del sud alcune pagine interne e poi abbiamo diversi approfondimenti uno in particolare che riguarda proprio possiamo dire la salute dei cittadini parliamo di SIN siti interesse nazionale state con noi ne parliamo fra pochissimo abbiamo da poco superato le 14 allora è il momento di iniziare la seconda parte di prima pagina con la prima pagina come promesso del quotidiano del sud che ha due aperture decisamente particolari con due notizie che fino a questo momento non abbiamo trattato l'ospedale della Sibaritide circa 292 milioni di euro per finire il nuovo ospedale della Sibaritide sappiamo bene che c'era stata un'interruzione dei lavori adesso pare che sia stata refinanzata l'opera approvato il piano di riequilibrio sette fonti di finanziamento diverse per l'opera che dovrebbe sorgere nel comune di Corigliano Rossano e servire tutta l'area della Sibaritide e non solo insomma lo Ionio Cosentino e poi è stata dissecretata praticamente l'audizione del procuratore capo di Vibo Valencia Camillo Falvo in commissione antimafia dove non arriva la criminalità organizzata arriva la massoneria legittimo o deviata quindi dopo quattro anni è diventata pubblica questa audizione di Falvo in commissione antimafia Vibo tutto quello che veniva considerato come andrangheta altrove qui non veniva trattato come tale un vero e proprio cavallo di battaglia documentare il fenomeno della massoneria e delle sue ingerenze un obiettivo del procuratore capo di Vibo Camillo Falvo che ne ha discusso nella commissione antimafia il 19 ottobre del 2020 quindi stiamo parlando di non quattro anni ma tre anni e mezzo abbondanti evidenziando come nel Vibonese vi sia un livello che è pesantissimo ed è quello della massoneria abbiamo cercato di documentarlo e cercheremo di continuare a farlo perché questo è un nostro cavallo di battaglia mio in particolare perché le avevo fatte anche a Messina le indagini sulla massoneria deviata ha parlato di fenomeno rilevantissimo dove non arriva la criminalità organizzata in quella che dovrebbe essere la parte buona della società arriva la massoneria quella legittima e quella illegittima ma anche quella deviata queste le parole di Camillo Falvo e poi un'interessante statistica per certi versi che diventa poi notizia perché andiamo in Parlamento ecco chi ha il record di presenze e soprattutto di assenze fra i calabresi all'interno poi vedremo le pagine interne anche del quotidiano parliamo di infrastrutture le imprese calabresi hanno spese più alte per la logistica e anche per la posizione a strombo alla ricerca alla casa perduta un'editoriale che trovate sul quotidiano la città unica altro grande tema ma lo sappiamo bene la città unica Cosenza rende Castro libero le mani su Rende il socio fondatore di Rende Sì Pierpaolo Iantorno boccia la fusione per imposizione stoccata dell'ex assessore al centro-destra del Partito Democratico mossi dall'ingordigia è un attacco insomma bipartisan per certi versi Trebisaccia a proposito di rete ospedaliera Trebisaccia Sanità vuole essere ospedale generale poi Orso Marzio quindi comune dell'Alto Tirreno chiedo scusa Cosentino zona un po' più interna salvò un uomo in metro a Milano Fontana e il sindaco la premia e premia appunto a questa donna originaria di Orso Marzo questa donna calabrese questa è la prima pagina del quotidiano del sud la vediamo e fra un po' andremo a vedere anche le pagine interne del quotidiano prima però abbiamo uno dei nostri approfondimenti ne abbiamo già parlato ieri oggi approfondiamo ancora di più la notizia perché si è svolta a Crotone poco fa detto che abbiamo parlato del SIN SIN sarebbe siti di interesse nazionale di cosa stiamo parlando parliamo di quello che è accaduto praticamente un trentennio fa siamo nella Crotone degli anni 90 il polo industriale che è una speranza per quella zona della Calabria per tutta la Calabria una grande area industriale doveva essere quella di Crotone l'expertusola praticamente e di quell'area industriale purtroppo è rimasto solamente i rifiuti tossici sono rimasti chissà dove alcuni interrati a Crotone con altri sono state anche costruite le sappiamo bene anche opere pubbliche vedi la Questura se ne è parlato tanto altre sono state interrate nella Sibaritide si parla dei siti di Cassano e di Cerchiara per alcuni siti è stato già operato la bonifica Crotone proprio all'area industriale bisogna bonificarla perché in quelle aree sia della Sibaritide sia di Crotone l'incidenza di tumore è più alta questi sono dei numeri purtroppo c'è grande preoccupazione si cerca di fare in fretta si è già perso troppo tempo parliamoci chiare poi ci sono anche tonnellate di rifiuti ancora non ritrovati che saranno stati interrati chissà dove e chissà se un giorno verranno recuperate e bonificate le aree c'è stato un incontro a Crotone per fare il punto della situazione ne ha parlato così come ne parlano dei rischi e sentiremo poi anche un aggiornamento sul registro tumori il sindaco Vincenzo Voce Bramilla il commissario dell'ASP e poi Emilio Enrigo il generale Emilio Enrigo che è commissario appunto del SIN del sito di interesse nazionale per l'attuazione appunto della bonifica Crotone Cerchiara Cassano Il problema legato all'inquinamento dei territori è stato evidenziato con il progetto Sentieri che ha fatto uno studio serio che poi è lo studio epidemiologico nazionale dei territori esposti ai rischi ambientali lì è stato evidenziato che nei SIN nei siti di interesse nazionali effettivamente ci sono delle incidenze superiori rispetto ai siti ad altri siti per cui l'obiettivo è quello di portare a termine la bonifica farlo rapidamente e in qualunque caso mettere in sicurezza Allora lo spirito di questa riunione è diciamo l'inizio di un proficuo rapporto che peraltro c'è già da qualche settimana con il commissario generale Enrigo su tematiche legate all'impatto delle condizioni ambientali sulla salute della popolazione di Crotone e provincia quindi oggi io con dei miei collaboratori insieme al professore Enrigo analizzeremo dei dati relativamente all'incidenza delle patologie in particolare di tipo tumorale sul territorio di Crotone e provincia per approfondire un tema secondo me molto rilevante che è il rapporto tra la salute e l'ambiente il registro dei tumori ci stiamo lavorando è un impegno che abbiamo anche con Regione Calabria in questo momento ci sono ne stavo parlando anche nei giorni scorsi in Regione c'è qualche problematica sulla sistemazione dei flussi dei dati quindi dovrà Regione Calabria in particolare l'azienda Zero sistemare i database e i flussi per riuscire ad avere dati che poi sono anche utili alla programmazione della rete oncologica è un tavolo tecnico molto importante perché riguarda e soprattutto la salute dei cittadini di Crotone dei bambini di Crotone delle donne di Crotone degli uomini che a seguito di accertamenti scientifici sembrerebbe ma più che un'apparenza credo che sia un fatto statistico ormai conclamato perché ha visto il presidente del suo superiore di sanità il dottor professore Rocco Bellantone il quale ha detto che le due province in italiane dove c'è più alto tasso tumorale sono la provincia di Vibo Valencia e la provincia di Crotone siccome io sono dal 14 settembre 2023 il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di Bonifero e la realizzazione del danno ambientale della provincia di Crotone e le comuni di Cassano e Cerchiare di Calabria ho sentito il dovere di approfondire queste informazioni con la persona competente che sono il sindaco di Crotone il presidente della provincia di Crotone e anche il presidente della regione naturalmente sempre molto attento e la persona più competente che è il presidente che oggi è commissario dell'ASP di Crotone per fare un punto di situazione per vedere come possiamo intervenire e dobbiamo intervenire per mitigare i rischi e per procedere nel più breve tempo possibile a eliminare tutte le cause e le concause che possono generare o hanno generato rischi e danni alla salute pubblica e al territorio Bene questa la situazione appunto per quanto concerne il sito di interesse nazionale ma anche la situazione dei tumori abbiamo sentito anche parlare del registro tumore strumento molto importante sempre sul quotidiano pagine interne abbiamo già fatto riferimento alla commissione antimafia l'udienza l'audizione del procuratore Falvo che è stata decesecretata dopo quattro anni ne abbiamo già parlato l'analisi scarsa attenzione dei politici alla giustizia le difficoltà affrontate dai magistrati per la carenza di organico e sappiamo bene che insomma c'è anche degli scontri alcune volte poi se ne è parlato negli ultimi giorni con le dichiarazioni di Gratteri Furgiole e Minasi gli stacano visti del voto in aula le presenze dei deputati e senatori calabresi in Parlamento ecco chi è il record di presenza o d'assenza tra gli eletti calabresi qui ci sono appunto dei nomi con in Senato Tilde Minasi è quella che ovviamente più di tutto abbiamo detto presente e poi Fausto Orsomarzo Ernesto Rapani scendendo Nicola Irto Mario Chiuto e poi Roberto Scarpinato vedete che ci sono 31 assenze di Tilde Minasi 37 di Fausto Orsomarzo poi gli altri sono praticamente oltre i 100 Ernesto Rapani 163 Nicola Irto 44 sono quelle di Mario Chiuto ma ci sono un numero di missioni superiori stesso discorso appunto per Scarpinato per quanto concerne invece la Camera dei Deputati Domenico Furgiole è il più presente e via via poi c'è Anna Laura Orrico Alfredo Antoniozzi Simono Loizzo Riccardo Tucci Arruzzolo Nico Stumpo Elisa Scutellà Francesco Cannizzaro con vedete qua ci sono molte più assenze i primi 990 995 848 poi gli altri oltre i 1000 oltre i 2000 oltre i 3000 Vittoria Baldino Giuseppe Mangialavori Vandaferro Eugenio Rocella qui ci sono un po' poi ovviamente per esempio bisogna tener conto tipo Mangialavori Ferro e Rocella che sono ministro sottosegretario e presidente di commissione queste sono un po' di statistiche anche abbastanza interessanti ospedale 292 milioni per finirlo ospedale della Sibaritide circa 936 sono a carico del pubblico la società incaricata gestirà i servizi per 25 anni la regione approva il nuovo piano di riequilibrio fondi pescati ovunque Trebisaccio vuole essere ospedale generale i dubbi sul piano del declassamento a presidio in zona disagiata ed abbiamo già parlato di questo medicina e chirurgia TD all'Unical ecco il bando di ammissione cardiochirurgia universitaria tra le prime dieci d'Italia nel piano regionale non ci sono i posti letto in più allora molto spesso la speranza è proprio su questo su medicina e chirurgia tecnologia digitale quel TD ovviamente all'Unical e insomma i bandi di ammissione sperando che magari vengano tolti quanto prima i test in Calabria si spende di più in logistica parlano ovviamente le imprese e gli aeroporti inaccessibili con mezzi pubblici il 76% li raggiunge in auto Ionica a proposito di trasporti giudicati ai lavori di elettrificazione per la tratta Crotone Catanzaro Lido Truffe agli anziani due denunce siamo a Reggio Calabria non si arresta il fenomeno blizza e la polizia non regge il tentato omicidio per il Bosti Zungri Peppina Corinti e Francesco Timpano il reato è stato derubricato in lesioni ma improcedibile per assenza di querela le 20 condanne del clan Piscopio e poi la Calabria in finale dopo 46 anni il torneo delle regioni epica eroica l'Under-19 battuta dell'Emilia Romagna i calci di rigore in inferiorità numerica vedete che è stato espulso furiato al ventesimo del secondo tempo il giocatore della Calabria poi si è riuscito a reggere comunque l'uno a uno fino al novantesimo poi ci sono stati i calci di rigore che hanno premiato la Calabria un traguardo prestigioso e storico per la nostra rappresentativa dopo 46 anni il calcio in serie B Verna Catanzaro proviamoci il centrocampista sprona la squadra siamo lì in alto e non ci treremo indietro per la difficile sfida di Parma Vivarini alla Rosa al gran completo il Cosenza si spera in tutina a proposito di Rosa in gran completo è rientrato Florenzi in gruppo e invece giocherà domani a Potenza un Crotone che potrebbe essere riconfermato da Alterio il portiere del primo minuto ma qui bisogna blindare la zona playoff questo per quanto concerne anche il quotidiano andiamo a dare un'occhiata adesso a qualche sito internet prima di chiudere anche con un sorriso vi prometto che chiuderemo con un sorriso oggi con un'intervista particolare andiamo adesso su repubblica.it proprio per dare un'occhiata ai siti internet Francesco Schiavone Sandokan si è pentito il boss del clan dei Casalesi collabora con la giustizia i verbali sono stati secretati e poi si racconta chi è appunto Sandokan cosiddetto perché è chiamato Sandokan Francesco Schiavone Caffiero de Rao Schiavone conosce i nomi degli imprenditori collusi e sa dove è nascosta la cassaforte del clan un clan senza testa dopo il pentimento di Schiavone l'intervista a Donald Tusk la guerra in Europa è un pericolo reale ma non siamo pronti questo lo dice il premier polacco poi ancora venti di guerra e poi il mondo della scuola e dell'università il post sgrammaticato il ministro dell'istruzione scatena ironie polemiche lo riscrive in italiano dico il PD almeno lo capiamo e poi la Luisa annulla la presentazione del libro di Nardella con Prodi e il direttore di Repubblica Molinari il sindaco c'è un clima pesante di discriminazione politica e beh insomma questo diventa anche questo una cosa del genere può diventare alcune volte un caso ilfattoquotidiano punto it il premier polacco TASK la guerra in Europa non è più un concetto del passato possibile ogni scenario e fa partire i caccia durante un attacco russo in Ucraina Sandro Caschiavone si è pentito l'ex capo dei casalesi ha scelto di collaborare con la giustizia Biden stati arabi pronti a riconoscere Israele Armi Italia Tel Aviv quasi 10 milioni di export la normale per lo stop al bando con gli israeliani la stampa punto it su qualche confine della Nato le truppe di Putin a un passo alla Polonia ecco perché ora temiamo un'escalation della guerra si è pentito Sandro Can il boss dei casalesi Francesco Schiavone e poi ritrovati in stazione a Milano Edoardo Galli il sedicenne scomparso il 21 marzo da Colico primo piano caccia polacchi decollano durante l'attacco russi in Ucraina notte infernale a Kiev 99 bombe sulle centrali termiche 9 arresti in Tajikistan per l'attentato a Mosca e la situazione è davvero molto molto grave molto molto tesa speriamo che le cose vadano per il meglio la Russia può attaccare l'Europa l'allarme ai taschi e le zone a rischio dal corridoio di Suwalk alla transnistria alla transnistria Putin minaccia alle basinato siamo pronti a colpire gli F-16 occidentali ovunque si trovino Siria Israele attacca Leppo bombardamento della notte almeno 38 morti il pentimento di Francesco Schiavone detto Sandokan terremoto in Grecia l'ingv un sisma l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un sisma di questo tipo può essere un innesco per scosse in altre zone ci manca anche questa speriamo non sia così Fedez in lacrime nessun tradimento nascondere nel volto dei figli una scelta concordata con Chiara ma insomma ci interessa poco Edoardo Caldi ritrovato in stazione centrale a Milano stava facendo il biglietto per tornare a casa era arrivato al confine con il Montenegro e poi tumore fulminante dopo l'operazione migliaia di cellule infette si diffondono nel corpo Bruno muore in 23 giorni davvero incredibile ebriatore l'operazione del cuore come sta il tumore scoperto due settimane fa la festa del figlio e la vicinanza della Gregorace poi insomma altre notizie il mattino che sicuramente aprirà con Schiavone eccolo qua infatti Sandro Can si è pentito la resa del boss dei Casalesi il fratello del carabiniero ucciso adesso vogliamo la verità rivela tutti i segreti della terra dei fuochi Bellinger sceglie i bianchi di Ischia ecco perché ho tradito la Francia e l'area Salis detenuta in Ungheria l'opposizione in calza Meloni basta nomi catapultati chiudiamo la rassegna stampa online con qui cosenza.it per la notizia calabrese dolci tipici pasquale se ne parla in questi giorni in Calabria 2532 imprese esperienza tradizione qualità consumatele in questi giorni senza esagerare ovviamente Cosenza per il 2024 invariata tasse di soggiorno per i turisti e poi le modifiche alla viabilità in occasione della via Crucis di oggi a Cosenza spostare l'autostazione a Vagliolise commercianti contrarie il sindaco ci ripensi e di questi temi ce ne occuperemo anche nel nostro telegiornale al momento che avremo chiuso con un sorriso chiudiamo con un sorriso vedremo se avremo anche qualche spazio per qualche altra prima pagina ma vogliamo chiudere regalandovi un'intervista con Biagio Izzo che in questi giorni è stato in Calabria con il suo balcone a tre piazze una commedia davvero esilerante molto bella l'equivoco che fa parte della comicità partenopea assolutamente ovviamente una commedia e gli equivoci è stato a Morano Calabro è stato a Rende è grande successo sold out in tutti questi teatri e tanti applausi per una commedia davvero esilerante ce la racconto lo stesso Biagio Izzo il succo di questo spettacolo è una commedia degli equivoci è molto particolare perché è molto molto divertente ma solo alla fine si capisce si capirà che stiamo parlando di un argomento che ci ha destabilizzati che ci ha creati tanti problemi e che speriamo ne siamo usciti definitivamente quindi questa è la cosa più bella di questa commedia perché ti vuoi si ride ci si diverte per tutta la durata della commedia e alla fine si capisce che cos'è questa tempesta che imperversa a Napoli è una tempesta di neve e ghiaccio inusuale mai vista già questo dovrebbe far creare curiosità nel pubblico poi da questo balcone che è il protagonista di questa commedia entreranno e usciranno tutti i personaggi che verranno ad arricchire questa commedia fortunatamente un grande cast di attori bravi da Mario Porfito a Ciro Pauciullo con Roberto Giordano Carla Ferrara delle Vitale sono degli attori bravissimi dove ci divertiamo innanzitutto noi a farla e che poi sono bravi devo ammetterlo sono bravi io sono Alfredo Buonaiuto un poveraccio una vittima un separato da sei mesi ancora innamorato della moglie e spera tanto di ritornarci insieme ed è vittima di tutto quello che gli accade come dicevo prima da questo balcone entreranno e usciranno tutti i personaggi e ognuno mi verrà a creare una situazione paradossale ma il mio malgrado mi troverò in queste situazioni tutto nasce da un cappotto che poi capirete perché non posso dirvi troppe cose ma vi giuro è una commedia esilarante davvero una bellissima commedia abbiamo tempo per dare un'occhiata a qualche prima pagina dei quotidiani nazionali che abbiamo già visti i siti internet andiamo al Corriere della Sera Salis negati domiciliari ovviamente la vicenda dell'era Salis in primo piano anche Francesco Papa Francesco che lava e baci i piedi dei detenuti in sedia e rotelle acerbi la sentenza trista abbiamo perso tutti ed è anche vero e poi ancora la minaccia di Putin pronti a colpire gli F16 validare le classi gli alunni italiani siano più della metà e poi anche Briatore operato al cuore un tumore benigno si spera ovviamente bene per lui e per tutte le persone malate Salis resta in cella anche qui su Repubblica l'apertura dedicata all'area Salis è dedicata alle parole le minacce di Vladimir Putin la guerra in Ucraina e poi anche la questione super bonus sulla scuola apre il messaggero il tetto per gli alunni steneri in classe ma anche sulla vicenda legata a Putin la minaccia alle basi Nato elettricità per le bollette calda il 20% risparmio medio annuo di 135 euro speriamo voli fuori stagione arrivano a 170 euro i biglietti low cost non esistono più e poi anche qui la vicenda legata a Ilaria Salis che resta in cella e il super bonus sisma sì al salva cantieri nell'area del cratere abbiamo per dare un'occhiata a una pagina sportiva andiamo sulla gazzetta dello sport Milan grande d'Europa l'esclusivo di Furlani su gazzette poi sì nel amore d'Italia sfiderà Medvedev e se dovesse vincere il torneo diventerebbe numero 2 del mondo ma c'è da battere prima Medvedev e poi eventualmente il vincitore di Dimitrov Zverev noi ci fermiamo qui ovviamente voi restate con noi perché c'è il nostro telegiornale ci vediamo domani sempre alle 13.30 buona giornata Musica Grazie a tutti.